Continuare a far bene sull'onda lunga della vittoria in rimonta sul Livorno per conquistare a Cittadella altri tre punti utili per continuare a sognare. E' un lecce carico di entusiasmo quello che domani pomeriggio alle 15 si presenterà al tombolato per sfidare i Veneti in un match valido per il turno numero 25 del campionato di Serie B. Quello che i giallorossi andranno a sfidare è un avversario che sta vivendo un momento non propriamente positivo. Dall'inizio del girone di ritorno la squadra del tecnico Venturato ha conquistato soltanto 4 punti frutto del pari di inizio anno a Crotone della vittoria contro il Carpi e dei tre K.O. consecutivi contro Cosenza, Spezia e Benevento. Un ruolino di marcia deludente per una compagine che tanto bene aveva fatto nella prima parte di stagione e che al via del mare era riuscita a bloccare sul pari gli uomini di Liberani. Un girone dopo un lecce molto più consapevole della sua forza andrà a testare le proprie belleità di vertice con alle spalle un ruolino di marcia importante soprattutto in trasferta. Nelle ultime tre giornate lontano dal via del mare i giallorossi hanno conquistato due paregge di un successo, risultati positivi che vanno ad inserirsi nel dato più ampio che ha visto i Salentini raccogliere in trasferta ben 21 punti sui 38 totali. Per continuare la striscia positiva ed allungare a 9 la serie di gare senza sconfitte il tecnico giallorosso Liberani dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 convigorito tra i pali. Venuti, Lucioni, Meccarello e Calderoni in difesa, Petriccione, Taxidis e Aie a centrocampo ed il recuperato mancoso alle spalle di Palombi ed è confermatissimo la mantia reduce dalla doppietta con il Livorno ed in forma smagliante. In Veneto dovrebbe esserci anche l'ultimo arrivato il centrocampista sloveno Zan Meyer, ufficializzato in settimana e reduce dall'esperienza con i russi del Rostov.